E di un arresto, due denunce e 14 assuntori di droghe segnalate alla prefettura all'esito di un minuzioso controllo dei carabinieri nel centro storico di Andria in altre zone della città. In tutto sono 70 le persone identificate, 60 le autovetture sottoposte a controllo, 10 le contravvenzioni elevate per violazioni al codice della strada. Nel corso dei controlli alla circolazione, due automobilisti di 28 e 34 anni sono stati sorpresi alla guida delle loro autovetture. In evidente stato di ebrezza alcolica, mentre transitavano rispettivamente in via Barletta e in via Santa Lucia. Intensificata anche l'attenzione sulle persone pregiudicate, in particolare su quelle sottoposte al regime degli arresti domiciliari e alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. I capillari controlli nel centro storico andriese hanno consentito ai militari di trare in arresto, su ordine del Tribunale di Trani, un 46enne del luogo riconosciuto colpevole del reato di porto illegale di armi ed oggetti atti ad offendere, e per questo motivo dovrà espiare la pena di sei mesi di reclusione. Sul fronte del contrasto all'uso di sostanze stupefacenti sono state individuate ben 14 persone appartenenti alla fascia di età, compresa tra i 17 e i 30 anni, nell'atto di consumare o detenere modici quantitativi di sostanze stupefacenti, tutte segnalate alla prefettura di Barletta andriatrani. Complessivamente sono stati sequestrati 15 grammi di marijuana, 20 grammi di hashish e alcune dosi di cocaina.